Salve amici del Centro Meteo Italiano, settimana variabile, localmente anche instabile, ma in vista del lungo periodo, c'è ancora anticiclone e clima molto mite. Attuale situazione sinottica che vede correnti umide in quota interassare Europa centro-occidentale e Mediterraneo. Queste portano molte nuvole sull'Italia e anche un po' di maltempo è interessante, nei prossimi giorni soprattutto le isole maggiori e le regioni del sud, e meno fenomeni altrove. Sul finire della settimana principali modelli che mostrano un rinforzo dell'anticiclone delle azzorre sui settori occidentali del continente. Tempo più stabile, ma soprattutto più caldo nel corso del prossimo weekend sull'Italia, specie al centro-sud. Ulteriore rinforzo dell'anticiclone entro l'inizio della prossima settimana sul Mediterraneo centrale, secondo il modello europeo. Trattandosi però di tendenze, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Maito Italiano.